Ecco i fatti, è lunedì 4 febbraio, sono le ore 2.56, dovevo mettermi a editare ma non ne ho voglia, voglio giocare, il problema è che c'è mia sorella che dorme qui a fianco quindi non parlerò, ma il nostro esperimento continua, valutazione e cortesia B, ci buttiamo dentro con tre partite e vediamo come va anche oggi, bella. Un po' di cattiveria 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 Novantatresimo Mi metto a registrarne un altro adesso, questo episodio è stato un po' una merda Tre partite, due sconfitte e una vittoria Con giocatori abbastanza scemi, questo comunque mi fa rendere conto che lo script c'è anche con valutazione e cortesia B, cioè quando non deve andare, non deve andare E' anche vero che mi sembra strano che per due volte abbiamo incontrato gente del nostro stesso livello o anche più alto la seconda volta Quindi ci può stare, ci può stare Vado a registrare l'altro, bella raga Buttiamoci subito con le partite raga, vediamo cosa riusciamo a tirare fuori da questo episodio Speriamo che vada meglio dell'ultimo perché, non lo so, di solito incontro gente con livello di valutazione più bassa, no? Questa volta invece, nello scorso episodio, me li ho adatti con valutazione più alta E addirittura mi ha tolto un pacco di punti perdendo contro quella gente Mentre invece avrebbe dovuto togliermene 4-5, massimo 6, me ne ha tolto 10-11 Cosa? Ma va bene, va bene, vediamo come va questo episodio E' comunque lunedì 4 febbraio, sono le 4 di mattina E vediamo cosa ci darà il matchmaking C'è l'ha fatta raga, c'è l'ha fatta E' italiano, scommetto che è uno di voi raga, vero? Dai dai, ditemelo, ditemelo, ditemelo che è uno di voi ditelo E' uno di voi, vediamo come va Non sfraccarmi male, salvo Non sfraccarmi male, ti prego Ho già fatto troppo di sconfitti oggi Bene Mi è piaciuto come l'ha passata Wendell Ma ce l'ho io davanti Ok Credo sia il rosso Se è fortunato giallo Giallo Lo sapeva Poi io faccio schifo a tirare i rigori Io faccio cagare a tirare i rigori Porca puttana Però Vabbè, è partita abbastanza equilibrata Sfruttiamo tutti e due gli errori dell'altro Quindi Va bene, ci può stare Ci può stare, dai E' illegale quel Mbappé E' illegale quel Mbappé Mamma mia Tanta roba E non ho mosso il portiere La tirata sul palo del portiere E' assegnato con Roberto Carlos Ciao missile Roberto Carlos Ma li do' a prenderla il mio Mamma mia Luggiano Allora Sono contento di non aver perso Perché di solito Quando becco Gli iscritti O quando becco gente che mi conosce Mi sfracca malissimo No? Quindi sono contento di non aver perso Partita un po' così Diciamo equilibrata Forse lui è un po' più di possesso palla Qualche tiro in più Cinque parate io Cinque parate lui Lui ha fatto più passaggi Va bene, dai Va bene Secondo me ci sta Secondo me ci sta Mandiamoli un messaggio Questo ci fa un culo Così ci fa Alla fine Alla fine sarà Sarà una cazzata No ma sono queste Le piccole cose Che mi rendono La giornata bella Ecco Contare uno di voi Anche se perdo Se pareggio Se vinco E' già capitato Di incontrare qualcuno di voi Ho perso malissimo Però quando mi iscrivono Mi sono divertito Poi sei troppo simpatico Vuol dire che mi segui su youtube Eccetera eccetera Grazie Grazie Lascia like Lascia like Questa è la cui ti amo A fine primo tempo Rega ve lo dico io Eh chi ci arriva prima Eh per poco Guarda Ciao Ciao E' stato bello E' stato bello Slavo U best 604 punti 91 partite 39 vinte 39 perse 13 parelli Parigi Professionista 1 Col PSG Numero di disconnessioni Moderatamente alto Ho fatto l'1-2 con Ronaldo E aspettavo che scattasse Ma Ronaldo è rimasto fermo A centro campo Non è Zanetti Ma ci proviamo Palla bagatta Palla bagatta Va bene Va bene Facciamoci un'altra 3.000 partite Gerusalemme Ma vai a lavare La sacra sin Non è scemo Chiedo scusa Per tutti i cristiani Credenti Che guardano i miei video Farami questa Farami questa Vediamo se con Suarez Cambia la storia Ronaldo di merda Se n'è andato Ah No sai Aspettavo Aspettavo Al prossimo episodio Grazie.